Ciao a tutti, oggi vi parlo di questo detergente in polvere che si usa appunto sul viso pulito è un detergente perché comunque contiene una parte lavante però non è in grado di lavare il viso dallo sporco quindi lo utilizziamo sulla pelle già pulita, io in particolare una cosa che faccio tutte le mattine aiuterà la pelle ad essere luminosa, a liberarsi dalle imperfezioni, a cercare di trattenere la lucidità quindi durante la giornata, adesso vi faccio vedere come realizzarla con ingredienti casalinghi e poi vi parlo delle sostituzioni per prima cosa ci serve una saponetta, io sto utilizzando questa della marca Hand, una saponetta naturale quindi non prendete le cose del supermercato orribili e la vado a grattugiare, deve essere grattugiata molto finemente ne dobbiamo recuperare circa 3 cucchiai che andremo ad inserire già nel contenitore finale perché non dobbiamo frullare è una ricetta casalinga quindi che possiamo realizzare in pochissimi minuti la vado poi ad inserire nel contenitore finale successivamente vado ad aggiungere l'argilla, io utilizzerò quella verde ma voi potete utilizzare quella bianca, quella gialla, quella arancione in base al vostro tipo di pelle, l'argilla ha delle caratteristiche appunto a seconda del colore e ne vado ad aggiungere 2 cucchiai successivamente aggiungiamo la curcuma, tutti questi ingredienti che state vedendo sono essenziali la curcuma non vi preoccupate non colorerà però aiuterà la pelle a togliere le impurità perché disinfetta e poi vado ad aggiungere la polvere di avena, se non l'avete basta utilizzare della semplice farina d'avena ridotta in polvere e vado ad aggiungere anche 2 cucchiai di bicarbonato che farà da leggero scrub per il viso leggerissimo perché si andrà a sciogliere poi con l'acqua lo agito e la mia preparazione è finita però io vado ad aggiungere altre polveri in più quindi se volete seguite anche quest'altra parte della ricetta a me servono in questo caso il cacao perché illumina tantissimo la pelle e la nutre e ne inserisco un bel cucchiaio e poi vado ad aggiungere la spirulina ma può essere sostituita anche con il carbone vegetale che ha un effetto detox sulla pelle così come anche la spirulina perché è un'alga detox e poi vado ad aggiungere 10 gocce di olio essenziale di T3 che va appunto anche ad eliminare le varie impurità a questo punto non mi resta che chiudere e agitare il contenitore per amalgamare tutti gli ingredienti poi successivamente do anche una gitatina col cucchiaio per togliere eventuali grumi che sono rimasti questo tipo di detergente diciamo che utilizzo la mattina mi aiuta a togliere appunto i residui di sporco della sera prima anche se comunque io lavo solitamente molto bene il viso vi basterà semplicemente metterlo un po' sulla mano e andarlo a bagnare questo sarà il risultato finale potete anche lasciarlo agire qualche minuto sulla pelle di modo che la pelle assorba bene anche tutti gli eventuali estratti che abbiamo utilizzato io spero che vi sia piaciuto al prossimo video